Tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo è l'impegno del Parlamento europeo che ha dato l'ok allo stop alla venta di auto a benzina diesel e GPL dal 2035. Una scelta che andrebbe ad incidere pesantemente sulla manovalanza impiegata negli stabilimenti produttivi. A rischio in tutta Italia infatti ci sarebbero 70.000 posti di lavoro nell'industria automotive legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico. Ricadute negative sono previste anche per la nostra regione in difficoltà ormai dal 2021. Sull'automotive già ci sono segnali di rallentamento piuttosto significativi a partire dal 2021. Probabilmente questo primo trimestre del 2022 i cui dati saranno pubblicati in giornata da parte dell'Istat segneranno un ulteriore problema per quanto riguarda questo settore che io considero il settore fondamentale dell'economia abruzzese perché tutti i dati che noi abbiamo a disposizione segnalano un automotive che è addirittura al quarto posto come incidenza sul totale a livello nazionale dopo le grandi regioni Piemonte, Emilia, Lombardia. C'è una cultura manufatturiera significativa che sostanzialmente ha prodotto una crescita fondamentale per questa regione. A questo punto il discorso diventa molto più complesso perché siamo in una situazione di instabilità, siamo in una fase di aumento notevole delle materie prime, siamo al di là delle materie energetiche e soprattutto siamo in una fase inflazionistica. I segnali che provengono anche dalla Banca Centrale Europea sono quelli di un aumento dei tassi di interesse il che potrebbe avere ripercussioni sul progetto di rilancio della nostra economia dopo la pandemia e all'interno di questo grande avvenimento che è il conflitto tra Russia e Ucraina. Grazie a tutti.